I carabinieri di Gela hanno arrestato cinque persone, due sono state portate in carcere, una ai domiciliari, due sottoposte all'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono indagate a vario titolo e in concorso tra di loro per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, detenzione di armi da fuoco e munizioni, tentata estorsione, furto aggravato, ricettazione e danneggiamento seguito da incendio di un'attività commerciale. In carcere sono finiti Orazio Pisano, 63 anni, e Giuseppe Pisano, 38, domiciliari per Gerlando Salamone, 71enne, mentre l'obbligo di dimora è stato disposto per Fabio Russello, 42 anni, e Vincenzo Alberto Alabiso, 23enne. Secondo gli investigatori, gli indagati si sarebbero dedicati alla racket della raccolta della paglia nelle contrade di Gela. Ed è nel contesto pastorale che sarebbe maturato il tentativo di omicidio avvenuto il 3 luglio 2021 in campagna di un bracciante agricolo che aveva resistito alle intimidazioni messe in atto per impedirgli di lavorare in quelle zone. Il mandante dell'omicidio sarebbe Orazio Pisano, che avrebbe incaricato il figlio di uccidere Carmelo Palmieri. Agli indagati viene contestato anche un episodio estorsivo culminato con il danneggiamento seguito da incendio di un panificio.